Ben ritrovati cari amici telespettatori con le notizie, si accende la campagna elettorale ad Alessandria, basta fake news ovvero basta notizie false, si confronti con me pubblicamente domenica a mezzogiorno in piazzetta della Lega, firmato El Gringo. E' questa la sfida lanciata dal candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle di Alessandria, Michelangelo Serra, al sindaco uscente Rita Rossa, sfidata a duello sulla questione inerente, il teleriscaldamento. Non potendo attaccarci sul piano della realtà, scrive il pentastellato in una nota, i nostri avversari politici preferiscono usare la fantasia e attribuirci dichiarazioni mai dette o azioni mai portate avanti, in particolare sul teleriscaldamento. Pronta la risposta di Rita Rossa che anche lei attraverso un comunicato ha spiegato tutto l'iter progettuale del teleriscaldamento evidenziando che l'amministrazione è una cosa seria e noi abbiamo dimostrato di essere disponibili al confronto, tanto che abbiamo organizzato una presentazione con confronto pubblico aperto a tutti al termine della gara. Serra ha partecipato ma è stato zitto. Non siamo disposti a pagliacciate folcloristiche di chi in difficoltà, scrive ancora la rossa, continua a gettare fumo negli occhi, ma come abbiamo già detto nel caso di Marengo Abbe, le bugie hanno le gambe corte e il naso lungo. La cronaca adesso, una copia originaria della Puglia, ma residente a Ponte Curone nel Tortonese, è finita nei guai per aver organizzato un sistema di frodi. In pratica i due organizzavano finti matrimoni per far ottenere il permesso di soggiorno ai immigrati, allo stesso modo li assumevano per fantomatici lavori con lo scopo di incassare i soldi per gli ammortizzatori sociali. Con la copia sono finiti nei guai altre 29 persone. Finti matrimoni in cambio di permessi di soggiorno, ma anche contratti per lavori inesistenti per ottenere gli ammortizzatori sociali. Era questo il modus operandi di un'organizzazione scoperta dai carabinieri di Tortona e Ponte Curone con la collaborazione del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Alessandria e ispettorato IMS provinciale. Due le misure cautelari emesse e 29 le denunce tra le province di Alessandria, Savona, Pavia, Foggia e Chieti. I capi di imputazione vanno dal favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato, truffa aggravata, associazione per delinquere, alla tentata estorsione. Al momento restano ancora al vaglio degli inquirenti le posizioni di alcune decine di persone che hanno avuto contatti ricorrenti con gli indagati. Le indagini erano partite nei primi mesi del 2016, quando i militari avevano iniziato a monitorare le attività intestate al pluripregiudicato Alfredo Marinelli e alla moglie Maria Colonna, entrambi originari della provincia di Foggia e residenti a Ponte Curone. La coppia, tramite due ditte individuali intestate a loro, assumevano extracomunitari che, dopo aver maturato il periodo minimo necessario ed ottenere gli ammortizzatori sociali, venivano sistematicamente licenziati per lasciare posto ad altri stranieri. Si calcola che tra la fine del 2014 e l'inizio del 2016 l'Inps ha dovuto erogare indennità pari a oltre 200.000 euro. Almeno cinque, invece, i contratti di lavoro a Fasulli per far ottenere il permesso di soggiorno. E sempre per il permesso di soggiorno la coppia organizzava anche falsi matrimoni tra extracomunitari e italiani, il tutto ovviamente dietro un esborso di denaro. Al Marinelli i carabinieri hanno contestato anche il reato di tentata estorsione per aver minacciato con coltello e martello in mano uno sposo che si era rifiutato di continuare con le pratiche illecite dopo che si era unito in matrimonio con una marocchina. Il GIP del Tribunale di Alessandria, su richiesta del PM, ha emesso un ordine di custodia cautelare nei confronti del Marinelli, mentre la moglie ha il divieto di dimora nella provincia di Alessandria. E' caduto dall'alto e questo in sintesi il referto dell'autopsia eseguita sul corpicino del neonato morto l'altra mattina all'ospedale Regina Margherita di Torino. Il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, ha infatti stabilito che le ferite riportate dal piccolo sono compatibili con una caduta. I primi risponsi quindi affermerebbero che la madre, dimessa oggi dall'ospedale Sant'Anne portata in carcere per la convalida dell'arresto, lo ha lanciato dal balcone subito dopo averlo partorito. Ma intanto, sempre a proposito dalla mamma di questo sfortunato neonato, si affacciano ipotesi forensi circa la mancanza di memoria sulla dinamica dei fatti. In medicina la chiamano amnesia psicogena o funzionale. In pratica è un meccanismo di difesa che sprigiona il nostro cervello per non ricordare un dolore che sarebbe insopportabile. Ed è quanto gli psicologi e psichiatri pensano sia successo a Valentina Ventura, la mamma di Settimo Torinese, che l'altra mattina ha lanciato dal balcone della sua abitazione il bambino che aveva appena dato alla luce. La donna, che si trova all'ospedale Sant'Anna di Torino e che presto sarà portata in carcere, dopo un estenuante interrogatorio, ha confessato solo frammentariamente quanto sarebbe successo all'alba dell'altro giorno. Si ricorda che era incinta, si ricorda che quella mattina si trovava in bagno, poi più nulla. Una serie di non ricordo che, secondo i medici, testimonia come quel ricordo sia stato rimosso dalla mente della donna. Un po' come avvenne per Anna Maria Franzoni, la mamma del piccolo Samuele trucidato nella sua casa a Cogne. Anche per lei, ancora oggi, la dinamica della morte del figlio è avvolta in una serie di mancati ricordi. E sono gli stessi psicologi a non sapere esattamente cosa accadrà nella mente dell'avventura e se un giorno potrà ricostruire la breve vita del suo figlioletto o se la sua psiche elaborerà un ricordo diverso dall'accaduto. Ma intanto non si placa sui social la rabbia feroce degli utenti che nelle ultime ore hanno subissato la donna di minacce ed abomini di ogni genere. Il sindaco di Settimo Torinese, Fabrizio Puppo, ha lanciato un appello affinché vengano abbassati i toni e ha chiesto rispetto per un dolore immenso che ha devastato una famiglia dove c'è anche un'altra bambina che non ha colpe su quanto è successo. Dobbiamo fare in modo a detto che la vita di questo bimbo non sia stata inutile. Una dei partecipanti al Rave Party che si è concluso l'altra mattina a Morano Po nel Casalese è stata deferita in stato di libertà per il possesso di un coltello con una lama di 20 centimetri. Si tratta di una ragazza di 21 anni residente a Savigliano in provincia di Cuneo. La giovane è stata controllata insieme ad altri partecipanti al Rave dai carabinieri di Ozzano Monferrato che le hanno anche sequestrato una piccola quantità di hashish. Due immigrati invece sono finiti nei guai ad Alessandria per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad arrestarli il nucleo operativo dei carabinieri di Alessandria. Nel primo caso a un marocchino di 25 anni con precedenti penali, i militari hanno trovato 90 euro provento dalla vendita della droga. ha rintracciato l'indirizzo di casa, gli sono stati sequestrati altri 160 euro e più di un etto di hashish e più di 6 grammi di cocaina. Nel secondo episodio, avvenuto nella zona di Corso Crimea, sempre ad Alessandria, una gazzella dai carabinieri ha rintracciato un 19enne marocchino, anche egli con precedenti di polizia, che dopo un piccolo inseguimento è stato bloccato con diversi grammi tra hashish e marijuana. Quando è arrivato in caserma, il giovane ha finto di sentirsi male, aggredendo poi con calci e pugni i carabinieri che si erano avvicinati per soccorrerlo. Parliamo adesso del delitto di Ponte Curone, avvenuto a fine novembre del 2013, in corte d'appello a Torino. La pubblica accusa chiede la conferma della condanna ai due tortonesi, Loiacono e De Filippo. Ema Camagna. Nessun sconto di pena per il rottamaio. Alessandro Loiacono e l'amico Antonio De Filippi, 36 e 53 anni, due tortonesi accusati di omicidio volontario per l'uccisione del gaviese Franco Domenico Belsito, 56enne, compiuto a Ponte Curone il 28 novembre 2013. Condannati in abbreviato dalla Corte d'Assise di Alessandria, rispettivamente a 30 anni e 14 anni e 4 mesi per omicidio volontario, devono spiare questa pena e non hanno diritto al benché minimo sconto. Lo ha sostenuto in corte d'appello a Torino nel processo di secondo grado il PM di Alessandria Fabrizio Gibri, applicato nel capoluogo piemontese, e che ad Alessandria si era battuto per le condanne. Loiacono e Belsito erano in lite per motivi legati alla loro attività lavorativa. Il tortonese ha sempre detto di aver egito per legittima difesa e che la vittima minacciava di gravi rappresaglie tutta la sua famiglia. De Filippi ha sempre sostenuto di essersi limitato a nascondere il cadavere nel bagagliaio di un'auto, poi abbandonata a lui e lì scoperta dai carabinieri. Il 7 giugno parleranno i difensori Giancarlo Muro di Reggio Calabria per lo Iacono, Vittorio Gatti di Alessandria per De Filippi, seguirà il verdetto. Due italiani di 35 e 60 anni sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Torino con l'accusa di ricettazione. Secondo le indagini i due avevano messo in piedi una vera e propria officina clandestina dove smontavano e rimontavano scooter, motociclette e autocarri, proventi di furti messi a segno sia a Torino che in provincia per poi rivenderli su internet. Dopo una segnalazione i finanzieri hanno finto di essere interessati all'acquisto online di un'apecar. Al momento dell'incontro i due denunciati hanno tentato di vendere il mezzo a un prezzo molto vantaggioso. La Guardia di Finanza ha poi eseguito una serie di perquisizioni nel corso delle quali sono stati rintracciati due box nel quartiere Barriera di Milano dove i due avevano allestito l'officina abusiva. Domani 2 giugno si celebra in tutta Italia la festa della Repubblica. Ad Alessandria la cerimonia del 71esimo anniversario della proclamazione della Repubblica si terrà all'interno della storica cittadella. Da Franco Capone sentiamo che cosa avverrà domani sia in Piemonte che in Liguria. Domani in Italia celebrerà il 71esimo anniversario della proclamazione della Repubblica con una serie di manifestazioni che si terranno in tutto il paese. Molte quelle in calendario a Genova e nella regione Liguria, a Torino e di tutto il Piemonte. Ad Alessandria la cerimonia si terrà nella storica fortezza della cittadella. Alle ore 11 organizzata la prefettura, il comando provinciale dei carabinieri, l'amministrazione provinciale e comunale. La manifestazione prenderà il via con l'alza bandiera, con il vessillo tricolore donato dall'arma dei carabinieri alla città di Alessandria. L'antica fortezza che sorge oltre il tanaro e circondata da mure altissime vanta il privilegio di aver visto per la prima volta sbendolare il tricolore il 10 maggio del 1821 sul pennone più alto della cittadella. Sarà una cerimonia ricca di significato storico. Subito dopo le autorità si trasferiranno in Corso Crimea per la commemorazione dei caduti in tutte le guerre, con la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento a perenne ricordo. Alla cerimonia sarà presente uno schieramento dei reparti di formazione che renderà gli onori militari al gonfalone della provincia, insegnito dalla medaglia d'oro del comune e del nastro azzurro, oltre a quelle delle associazioni combattentistiche e d'arma. Nel pomeriggio alle 17.30 in prefettura verranno consegnate le medaglie d'onore alla memoria concesse dal Presidente della Repubblica ad ex deportati ed internati nei lager nazisti e le nuove efficienze all'ordine del merito della Repubblica. Fra gli insigniti il Presidente della Croce Rossa Marco Bologna, il Comandante Bolognese della Guardia di Finanza, l'Avvocato Massimo Canigia, imprenditori, commercianti e rappresentanti delle forze dell'ordine. Tra poco la pagina sportiva, ci occuperemo della partita di andata dei quarti di finale dei play-off tra Lecce e Alessandria, che come sapete è finita 1-1. Le immagini delle più salienti della partita tra pochissimo, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.